Al suo fianco c'è sempre lui, l'uomo di cui si è innamorata girando sul set di Titanic nascita di una leggenda, più di due anni fa. Alessandra Mastronardi alla premiere romana di The Amazing Spider-Man 2 è arrivata insieme al fidanzato Liam McMahon. L'ex Cesarona e l'attore irlandese si sono concessi ai Flash felici, sorridenti e più che mai complici. Abitino Fuchsia con sopra ricamati di fiori rossi per Ale, assolutamente radiosa e al top. E al settimo cielo ha da poco finito di girare Life, pellicola che la vede recitare accanto al famoso vampiro di Twilight Robert Pattinson. La Mastronardi vestirà i panni di Anna Maria Pierangeli, nota negli Stati Uniti solo come Pierangeli, attrice italiana che negli anni 50 arrivò in America e intreccia una relazione ostacolata dalla famiglia con James Dean. Il cinema internazionale è il suo futuro, in cui c'è pure Liam però, sempre più presente, l'uomo della vita.